Approvato il decreto Campi-Flegrei, ossia quello sulle misure urgenti di prevenzione del rischiosismico nell'area vulcanica ovest di Napoli. La misura straordinaria è stata varata dal governo e prevede lo stanziamento di 440 milioni di euro per interventi pubblici e quelli di messa in sicurezza. Per l'avvio delle operazioni ci si affiderà ad un commissario straordinario che sarà nominato entro 15 giorni. Ad annunciarlo è stato il ministro della protezione civile Ennello Musumeci che ha illustrato i punti del provvedimento. Le persone costrette a lasciare la propria casa nell'area in questione potranno soffrire di un contributo che va da 400 a 900 euro a persona al mese, insomma che potrebbe avere un'integrazione. Musumeci ha voluto specificare che non rientreranno nella misura le case abusive e le seconde case. E proprio su questo punto si è schierato contro regione, comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli che avrebbero autorizzato uno sviluppo urbanistico irragionevole, caotico e disordinato senza tenere mai conto dei pericoli di quell'area. Il decreto Campi Flegrei inoltre introduce il divieto di realizzare nuove abitazioni per civili, esclusi stabilimenti, opifici e luoghi di lavoro. In particolare 20 milioni di euro saranno dedicati per l'edilizia privata compromessa dal sisma del 20 maggio scorso che ha determinato una serie di ordinanze di sgombero e dunque l'inagibilità di circa 400 edifici. Non ci limitiamo a riparare la lesione provocata dal sisma, dichiarato Musumeci, ma prevediamo la riqualificazione dell'immobile che ad una scossa più potente di quella di magnitudo 4.4 non potrebbe resistere. Il governo sta dando più di quanto non abbia il dovere di dare, ha concluso. Quello che stiamo facendo non si è fatto negli ultimi 40 anni.